che si dice? i due mister hanno creato... si, la nominativa dei due mister e non... e la non si consegue ancora ma che si può fare? e beh, un bel Bum, c'è ciò che siete vuole giocazione, finché si fa scurire e facciamo neanche trappicini lui statunitò in un dream che fare ma lei che ha mai scelto qualche palco perché mi stanno a portare... un altro Sandro vai Sandro vai negli spogliatoi che deve entrare la fai vai Vito che la fai Vito c'è la testa la paola che cazzo non sbaglio, qui c'è pure il piede burro qui c'è boss qui non la paola sembra in ritardo arriva qui che terrore che terrore che giusto eh, che giusto adesso vado a cacciare fuori proprio quello è un vantaggio per noi su cacciare fuori sì, ma io penso così mamma mia, la miseria carrozziere gioca più sulla destra che c'è la telecamera come qua giratevi di qua voglio giratevi che c'è una televisione un'ora come qua tu vedi una televisione in che senso vedi una televisione questa senore non è che tu vedi una televisione è gialla, è gialla è gialla ma sei scemo ma che cazzo ma che cazzo è la botta che con la botta si prende i rigori ma che cazzo è la botta ma che cazzo è la botta si ha fatto pure cacciare ma che cazzo è la cosa ma che cazzo è la cosa è sempre qui, è sempre uno la testa di scarpino con i tacchi almeno così non c'è come questo qua poteva portare gli altri no ma questo qua che cazzo non è caduto la patria però è che uno dà una botta così e rigori